Buongiorno, sono Simone Zanolo di Wish Days e sono qui oggi per presentarvi la nostra nuova gamma di cofanetti Emozioni 3. Sono cofanetti regalo che potete trovare in oltre 5.000 punti vendita dalle agenzie di viaggio e oltre 1.500 punti vendita della grande distribuzione organizzata e specializzata. La nostra gamma di cofanetti comprende 35 referenze e sono fatte per tutte le tasche. Le novità maggiori di quest'anno sono il weekend a 49 euro di una notte o il weekend di due notti a 79 euro. Come dicevo ci potete trovare in tutti i negozi della grande distribuzione organizzata e specializzata con cui collaboriamo molto spesso e siamo aperti e facciamo regolarmente iniziative di marketing dei nostri partner della distribuzione. Il nostro prodotto si presenta da sé perché è un prodotto molto forte dal punto di vista quantitativo nel senso che offriamo ai nostri clienti un numero molto alto di opzioni tra le quali scegliere. abbiamo 5 categorie tematiche che vanno dai soggiorni, i soggiorni con cena, alla degustazione, al benessere e alle attività più adrenaliniche e quindi ce n'è per tutti i gusti anche qualitativamente le nostre strutture sono validissime e il tutto si presenta in un formato che per qualità prezzo non teme concorrenti sul mercato. Vi ringrazio per l'attenzione e spero di vedervi presto tra i lineari a provare i nostri prodotti. Grazie.